Amici, adesso stai ripensando, ecco quali due buffoni, ma almeno ci sono i 9 LPS, esatto, abbiamo fatto pace. Io, come sempre, sono Fiorellina, io, come sempre, sono Lucy. Allora, oggi questo è un video dedica, già, diciamo, alle mie tre iscritte, che mi parlano su... parlatemi 26 iscritti, anzi no, 23 iscritti restanti. Comunque, cominciamo. Allora, cominciamo con i 3 nuovi LPS, cameraman, non vai a prendere la casa della prima. Cacchio, ok, ok, la vado a prendere. Che faticaccia, che faticaccia. Mamma mia, cacchio, wow. Ciao a tutti, io sono Viola. Ecco, questo è un video dedica, metterò il nome ai miei 3 nuovi LPS e ai miei 3 iscritti che mi parlano su YouTube. Questa, non è per offenderla, per carità, molto bella. La metto a Frenzy e alle PS, proprio per lo sguardo. Cioè, a me piace tantissimo questa gorilletta, no? Poi gli occhi dolci. Cioè, è proprio da lei, perciò le metto Frenzy. Ciao, Frenzy. Ciao, col suo pupazzetto, che assomiglia un po' alla sua versione LPS, no? Perciò, ciao. E bene, sì. Cioè, io sarei la sua versione LPS. Vabbè, insomma, Frenzy. Ma non l'ha messo perché ciccione, per carità. L'ha messo solo perché la immagino molto dolce. Dai, perciò saluta. Ok, io porto via la mia... Ok, io porto via la mia camera. Ciao, ragazzi. Eh, sì, la so, Frenzy parla molto dolcemente, vabbè. Infatti, pensavo che era dolce. Poi, vediamo lei. Che ho trovato con lei. Allora, sono coppie da due. Ho trovato questa tartarughina, che si doveva chiamare Gioia. Cioè, ci sta. E lei, che si dovreva chiamare Salterina. Ma ho deciso di chiamarle LPS Rassitube, che lei è quella che mi segue dall'anno scorso. Perciò, sì. Gioia Marasca. Gioia, per l'appunto. Gioia Marasca. Perciò, lei è Gioia, come vi ho detto. Marasca, Gioia Marasca, esattamente. E lei è LPS Rassitube. Rassitube. Perciò, questo è un bacione da tutti. Perciò, adesso li metto tutti insieme e facciamo un mega salutone a tutti. Anche i compagni di scuola, quelli che vi ho linkato, tipo, da tre secoli. Quelli che mi scrivono di più su YouTube sono così, in fila. Perdonami se ti ho fatto così piccola, Gioia. Perdonami. Vabbè, mi sembra carina su YouTube. Cioè, c'è così. E vediamo. Metti la casa qua. Ehi, mamma, si vede poco. Lascia stare. Pure io ci sono. Mi saluto da Cricci. Da Gioia. Da Rosy. Da Frenzy. Da Locosa. Da Fiorellina. E da Lucy. Un salutone anche da Claudia. E... Ciao! Ciao! Ciao!